ciao a tutte le videomatrici e videomatori di senza fissa dimora e benvenuti in questo nuovo video mi sto attrezzando piano piano arriverò avere un posto anche normale tra virgolette per fare i video nel frattempo ci adattiamo alla situazione un po al contrario di quello che sta succedendo a livello politico in europa dove non sembra nessuno volersi adattare alla situazione il capitalista non sbaglia mai ciò che è sbagliato è la realtà tanto che qualcuno e sembra proprio che vogliono spacciare come genio della lampada come inventore che non è affatto vero ma lo vogliono far passare come numero uno come sua ideona proprio niente po po di meno che mario draghi e niente po po di meno scusatemi la ripetizione il tetto del gas draghi come portatore sano di mercato libero a livello comunitario mondiale soprattutto a livello suo e dei suoi amichetti di quartierino draghi e tutta la eu e quindi tutti i suoi amici speculatori banchieri fan del messaggio neoconservatore di oltreoceano portatori di questo messaggio hanno anni fa deregolamentato il mercato del gas in europa cosa vuole dire spiega un po questi due concetti per entrare un po meglio nell'ordine di idee di quello che sta accadendo di quanto è propaganda di quanto ci vogliono vendere delle cose obsolete irrealizzabili utopiche a volte delle balle colossali come invece l'unica soluzione possibile alla catastrofe e il tetto del gas è una conseguenza se vogliamo vederla così della deregolamentazione del mercato del gas cioè il mercato del gas è stato deregolamentizzato che cosa vuole dire vuol dire che è stato affidato ai privati vuol dire che c'è una banca in questo caso una banca olandese che si occupa attraverso un sistema che si chiama tfi credo vado a memoria spero di non sbagliarmi ma anche queste sigle hanno un'importanza veramente pari a quella della sabbia dove va a fare i bisognini il gatto in casa insomma questa sigla tfi si occupa di regolamentizzare il mercato del gas cioè di adattare la domanda all'offerta nella solita propaganda neoconservatrice che invece che un mercato regolamentizzato quindi che è un mercato regolato dagli stati un mercato non regolato sarebbe più conveniente a tutti e infatti nel giro di pochi anni e in questa situazione specifica di oggi nel giro di poche settimane in base all'offerta in base alla domanda e in base soprattutto alle speculazioni noi come stati dobbiamo pagare il gas dieci volte tanto a volte anche di più infatti siamo arrivati da pagarlo prima di questa crisi della politica e del mercato speculatore da 80 più o meno a 1000 megawatt ora questa unità di misura tutto grazie a questa borsa olandese voi direte ma perché olandese è una buona domanda sembra che lì sia il posto migliore dove poter affidare una cosa così importante come il gas insomma in parole povere che cosa è successo è successo che adesso ci si rende conto che invece forse sarebbe stato meglio un mercato regolamentizzato cioè regolato dagli stati ma non lo si ammette e quindi si cambia la parola e si dice imponiamo un tetto ma cos'è il tetto e qui veniamo alla seconda balla colossale che ci raccontano e cioè il tetto in sé per sé non è una vera e propria regolamentazione interna quindi scambio interno no è semplicemente un po' come se voi andaste al mercato del pesce e decideste che le sardine voi non le volete pagare di più che 5 euro al chilo al che potete immaginare bene che il commerciante che si trova dall'altra parte se ha qualcuno che le paga 50 euro al chilo sarà molto come minimo reticente nel vendervi il gas a voi a 5 quando ha di fianco a voi in coda dietro voi una lunga coda di persone disposte a pagarlo 50 60 70 150 400 e via discorrendo ognuna chiaramente in base al proprio portafoglio e alle proprie esigenze perché la chiama una balla colossale perché succede che i grandi produttori e i grandi compratori hanno degli accordi vecchi di anni tra cui ad esempio eni eni che ha anche una sede internazionale proprio in olanda una holding ha un contratto vecchio di ben dieci anni proprio con gas prom con uno dei fornitori principali del gas per quello che riguarda l'italia la cifra credo che sia attorno al 35 40 per cento cioè la percentuale di gas che è moltissima perché il resto cioè il 60 e qualcosa per cento di gas che serve all'italia viene invece frammentato tra tanti stati il primo partner tra tutti questi oltre alla russia è l'algeria che usa in grandissima parte gas russo e condivide soprattutto con gas prom la distribuzione del gas quindi quando sentite parlare che si riprenderà il gas che non si compra dalla russia dell'algeria praticamente pagherete gas russo dieci volte tanto semplicemente per fare arricchire un pochettino di più qualcuno che controlla il mercato algerino che probabilmente algerino non è ma riassumo ancora quindi abbiamo da una parte il mercato del gas deregolamentizzato già da anni poi la mentalità euro centrica dell'europa che vede l'europa al centro del mondo così come vede il terra piattista la terra al centro dell'universo un po nella stessa mentalità si conserva questa ideologia che l'europa sia al centro del mondo che tutto giri attorno all'europa e che l'europa abbia addirittura l'arroganza di imporre un prezzo di acquisto del gas come ripeto lo stesso discorso della sardina a 5 euro al chilo riassumendo oltre tutto questo eni ha dei contratti con gas prom vecchi dieci anni che fanno dubitare legittimamente un po tutti ma per primo che eni paghi ancora il gas con un contratto fatto dieci anni fa quindi succede che vende eni ai distributori in italia tra cui lo stato a un prezzo di 10 15 20 40 volte tanto non lo sa nessuno ma quello che sappiamo che eni nell'ultimo trimestre del 2021 ha fatto un fatturato quindi degli utili del 400 per cento in più di quello del trimestre precedente quindi io vi chiedo a voi umilmente quanti di voi hanno aumentato i propri guadagni il proprio salario del 400 per cento bene l'eurocentrismo europeo invece pretende che siano gli altri a guadagnare di meno quindi non solo vuole incassare lui 400 per cento in più ma vuole che gli altri praticamente invece si riducano lo stipendio tutto questo è sicuramente realizzabile in un film di hollywood ma c'è un ma qualcuno non ci sta e sono la spagna e il portogallo che se guardiamo il mercato europeo del gas loro non partecipano quindi sembra e dico sembra perché poi all'interno di questi stati ci sono altri sistemi che sopperiscono quindi sembra che una parte venga pagata dallo stato una differenza tra quello che era prima e quello che è adesso ma se guardiamo quanto pagano adesso a megawatt quindi con l'unità di misura che noi paghiamo che noi abbiamo pagato come italia circa 700 un massimo di mille e anche la francia si aggira a volte un po meno quindi sui 500 ma comunque ha dei prezzi enormemente maggiori di quelli che erano solo due mesi fa che era appunto sugli 80 90 euro al megawatt spagna il portogallo hanno raggiunto un massimo di 185 e sembra un massimo quasi imposto da loro mi avvio alla conclusione di questo video dicendovi e confidandovi che secondo me è una grande fake news quella del tetto al gas cioè ci prendono un po' in giro tanto che articoli di giornale in continuazione fanno visualizzare se si può dire così Putin alla scrivania che scrive le nostre bollette che aumenta il prezzo del gas è lui la colpa di tutto ciò quando invece tutti abbiamo capito che già da qualche mese saremo noi aver messo delle sanzioni quindi di solito sul mercato se si decide di non comprare più una determinata merce da un determinato produttore lui ha tutti i diritti di venderlo agli altri in primis e quando noi ci troviamo nella condizione in cui dobbiamo comunque per nostro bisogno comprare quella merce che questo produttore che noi liberamente abbiamo scelto di non avere più come fornitore quindi non compriamo più da lui per scelte e andiamo a comprare da altri a un prezzo di 4 5 10 volte superiore la colpa è di Putin insomma un cocktail di distonie mai visto grazie a tutti per avermi seguito fino a qui spero che questo video vi sia interessato lasciate tra i commenti commentate il video dicendomi cosa ne pensate del tetto al gas cosa ne pensate della deregolamentarizzazione del mercato del gas e cosa ne pensate soprattutto del fatto che sia Putin a scrivere le nostre bollette grazie a tutti e al prossimo video a non dimenticate se vi interessano i miei video se mi interessa la maniera in cui li tratto di mettere un pollicione in su di condividere il video sui vostri social e se volete offritemi un caffè usando i link in descrizione ciao a tutti e alla prossima ciao